Allora oggi siamo qui nelle colline di Conegliano Valdobiadene e cioè del Prosecco DOCG. Oggi iniziamo la raccolta che si si vede una raccolta stupenda anche se abbiamo ovviamente una nata particolare come che abbiamo detto nella zona della pianura è stata una nata un po' più ridotta ma anche il DOCG si abbiamo un po' di posizioni meno ma abbiamo una buona nata si promette un buon vino e sono convinto che quest'anno il nostro Prosecco DOCG con il Conegliano Valdobiadene sarà veramente eccezionale e non dimentichiamolo mai che è sempre un vino biologico.